Siamo tre amiche stanche della vita di città e di un anno di lavoro. Abbiamo deciso di vivere un'avventura insieme nel Mediterraneo, dove? In Grecia. E' davvero emozionante svegliarsi a bordo di una barca in navigazione e accorgersi di avere intorno a noi solo il mare. E' davvero emozionante. E' davvero emozionante. Patria dei Feaci e ultima tappa del viaggio di Ulisse di ritorno a Itaca. Corfu è un'isola cosmopolita. Facciamo un giro intorno all'isola per scoprire le sue coste. La nostra prossima meta è il capoluogo dell'isola. Paxos è un'isola molto verde. Qui si possono noleggiare barche a remi o a motore e raggiungere insenature a cui non è possibile arrivare in un altro modo. Ci avviciniamo alla costa di Leccada. Il nostro viaggio continua in direzione di Itaca. Stiamo diventando sempre più esperti a governare la Santorini. Sciogliamo le cime e prendiamo in largo verso la nostra prossima e ultima tappa.